Stop all'uso e al transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade o dalle piste carabili già esistenti. A Corloforte, nell'isola di San Pietro, scattano i divieti per porre un freno ai percorsi da motocross creati in diverse zone dell'isola e che stanno creando non pochi danni all'ambiente e disagi residenti. A stabilirlo è una recente ordinanza emanata dal sindaco Stefano Rombi, che impone il divieto ad esclusione dei mezzi agricoli e forestali per quelli di soccorso, controllo e vigilanza del territorio e per quelli utilizzati per accendere i fondi agricoli che non possono transitare in tutto il territorio comunale. Dopo le segnalazioni di numerosi cittadini avvalorate dai sopralluoghi degli agenti della Polizia Municipale, infatti, gli amministratori hanno potuto accertare che, oltre ai rumori eccessivi delle moto nelle campagne, sarebbero stati creati anche diversi percorsi per il motocross, che hanno danneggiato o alterato, si legge nel provvedimento, la vegetazione e le specie floristiche necessarie all'equilibrio ecologico delle aree. Ma i problemi in tema di salvaguardia delicato sistema ambientale dell'isola di San Pietro non si limitano solo alle scorribane di rideri motocross. Durante i controlli della Polizia Municipale, infatti, è stata anche accertata la presenza di una colonia felina all'interno dell'oasi Lipu, importante luogo di sosta e nidificazione di numerose specie protette di volatili stanziali migratori, tra cui il falco della regina. Una presenza che potrebbe mettere a rischio tali specie. Per questo il primo cittadino nella stessa ordinanza ha stabilito anche il divieto di introdurre nel territorio comunale, animali differenti dalla fauna selvaggia tipica dell'isola.